all'epoca al vise vicino un ragazzo sedicenne si è trovato in casa circondato dall'acqua la mattina del 5 novembre e ha avuto l'idea di prendere la vecchia cinepresa una super 8 del tempo del fratello maggiore al cide e ha voluto fare delle riprese dalle finestre della propria abitazione con uno scenario spettrale nei giorni successivi fu il fratello al cide a riprendere in mano la cinepresa con una pellicola colori per filmare la devastazione dopo il ritiro dell'acqua a ricordare il dramma dell'alluvione del 66 e la moglie di elvise vicino che dopo la scomparsa del marito ha deciso di pubblicare quei filmati è una bella testimonianza secondo me e credo di interpretare anche le volontà di al cide e di alvise di voler rendere pubblico questo filmato affinché resti come testimonianza e di monito per le generazioni future e anche per le autorità competenti che dovranno affrontare questo tipo di problemi sempre più comuni l'alluvione di zenson raccontata da chi l'ha vissuta ora è anche un libro scritto da carlo dariol e gualtiero bisiol che ha raccolto le testimonianze degli abitanti ma anche vissuto quei giorni drammatici molti i ricordi tragici ma anche curiosi come la visita ai luoghi dell'alluvione dell'allora presidente della repubblica giuseppe saragat ho preso la bicicletta sono andato là e veramente si erano impiantati sul fango che c'era l'ho aiutati a tirarsi fuori l'ho insegnato che strada dovevano prendere per andare a treviso hanno voluto vedere appunto dove proprio il piave aveva rotto tra l'altro mi dice anche mi viene anche 5 mila lire che mio padre le conservò come una reliquia perché ero li ho detto queste le date saragat a mio figlio